Mentre il Governo centrale indica tagli, la Giunta regionale con il Presidente Pittella rafforza i territori con presidi di salute che puntano a rassicurare e ad alzare il livello della qualità dell'assistenza e delle cure e a potenziare le infrastrutture digitali in grado di lanciare i nostri piccoli comuni oltre i confini. Lo dichiara il consigliere regionale del PD Mario Polese che ha partecipato a Maratea all'inaugurazione della nuova residenza sanitaria assistenziale per gli anziani. Per Polese si tratta di una residenzialità di eccellenza che da oggi potrà rispondere anche alle domande che pervengono dall'area nord della Calabria e dall'area sud della Campania. Quanto all'annuncio dell'estensione da parte della TIM della fibra ottica anche nelle zone marine, Polese osserva che Maratea si dota finalmente di infrastrutture di ultima generazione. La posa della fibra chiosa è un passo importante e quel ponte strategico per far conoscere questa splendida località e dare una grande mano all'industria alberghiera.